POSSO CURARTI! POSSO CURARTI! We have lost Objective Apples. POSSO CURARTI! Ecco qui, cassetta medica. We have taken Objective Charlie. POSSO CURARTI! We have taken Objective Butter. POSSO CURARTI! POSSO CURARTI! POSSO CURARTI! POSSO CURARTI! POSSO CURARTI! POSSO CURARTI! Cassetta medica per... Cassetta medica, ecco. Cassetta medica, ecco. Cassetta medica, ecco. We are losing Objective Butter. We have lost Objective Charlie. vuoi che ti rimetta il sesto cassetta medica arriva abbiamo avuto l'obiettivo Charlie abbiamo avuto l'obiettivo Charlie vuoi che ti curi ecco cassetta medica cassetta medica per te amico cassetta medica rimettite in sesto we have taken objective Charlie vedo un ricognitore nemico ragazzi we have lost objective dove ecco una cassetta medica ecco una cassetta medica ora curerò le tue ferite half way there sentinella nemica sentinella nemica individuata sentinella nemica individuata a sentry kit is available near your location Ecco una cassetta medica Cassetta medica per te Cassetta medica, ecco Cassetta medica, rimettite in sesta Cassetta medica An enemy airship. Una cassetta medica, ecco. Ecco una cassetta medica. Posso aiutarti per quelle ferite. Conquistiamo l'obiettivo! Conquistiamo l'obiettivo! Conquistiamo l'obiettivo! Soccorso! Ecco, cassetta medica. Soccorso! 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 なんibairاに救 thought Lascia che ti rimettei! No! Dobbiamo conquistare l'obiettivo! Ascoltatore localizzato! No! 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 No!